Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di materassini da trekking, nel particolare vedremo i modelli di mountain equipment, ovvero modello Overstat Synth 7 e il modello Aerostat Synth 7. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo da questo modello Aerostat Synth 7. Inizio raccontandovi che esistono diverse versioni. Esiste questa versione regular che ho provato io, esiste la versione long per persone più alte, esiste la versione wide se lo si vuole un pochino più largo ed esiste addirittura la versione long wide se proprio lo si vuole enorme in caso sia delle persone molto alte e grosse. Tutti con AirValue 4 e nel particolare nel modello regular che ho provato io il peso è di 660 grammi. Adesso vediamo nei pregi e difetti all'interno della recensione completa. Parliamo di un sacco pelo con AirValue 4 che pesa 660 grammi, che comunque non è male, non è male perché soltanto attorno all'AirValue 4 pesano più o meno un 200 grammi in più, quindi comunque ha un ottimo peso, soprattutto le dimensioni. È veramente piccolo, è un pochino più grosso di una borraccia da un litro, quindi veramente risicate le dimensioni. È molto semplice gonfiarlo perché questa sacca che viene data in dotazione è anche la sacca con quale possiamo gonfiarlo semplicemente andando a immetterci pochissima aria, quindi un gonfiaggio veloce e rapido. Anche sgonfiarlo è molto facile, ma come ci si dorme sopra? Molto molto bene. Innanzitutto vi dico che non fa rumore, questo vi assicuro che è sempre un must. Dipende la versione che prendete, però io anche con questa versione è regular, ci ho dormito sopra molto molto bene. A livello anche di grandezza di spalle è abbastanza largo. Ha una tramatura che fa sì che non si scivoli una volta che si sta sopra col sacco a pelo. E poi parliamo di questo valore R di 4. Mountain Equipment dice che va bene fino a meno 25 gradi. Io starei un pochino sopra, è meno 4, di solito magari stiamo un pochino sui meno 10, è meno 25 proprio in extremis. Però davvero come sacco a pelo, 4 stagioni, ma anche un po' invernale, può andare super bene. L'isolamento è inoltre garantito da 160 grammi di prima loft messo all'interno di questo matrassino. Quindi davvero un sacco a pelo che praticamente su qualsiasi superficie andiamo a dormire ci terrà sempre al caldo. Per quanto riguarda i materiali, come dicevo, un ripstop 30D, perfetto, non ho avuto nessun tipo di problema, quindi anche materiali promossi. Passiamo ora al secondo modello, ovvero l'Overstat 7.0 Synth. In questo caso abbiamo solo due versioni, regola e long, entrambe con un air value di 3.5, ma soprattutto in questa versione regular che ho provato io abbiamo un peso di soli 670 grammi. Iniziamo parlando delle dimensioni di questo Overstat 7.0 Synth. È un matrassino abbastanza leggero e abbastanza piccolo. Me lo immaginavo un pochino più piccolo, per intenderci, secondo me, quello che abbiamo visto prima, l'Aerostat, è più piccolo di questo qua. Parliamo comunque di un matrassino abbastanza leggero, 670 grammi, lo si trasporta con facilità. Mi piace molto poi la sacca che si utilizza, data in dotazione, per gonfiarlo, che davvero in un paio di minuti fa sì che riusciamo a gonfiare il matrassino senza nessun problema. Come ci si dorme sopra? Molto molto bene. Questo 7.0 che troviamo nella sigla è l'altezza del matrassino una volta gonfio, ovvero alto 7 centimetri. Ci si dorme molto molto bene perché, essendo che dentro c'è dell'aria, il matrassino prende completamente le forme del nostro corpo, quindi ci si dorme sopra delle notti veramente super. Mi piace che non sia rumoroso, anche lui con una tramatura esterna per far sì che non si scivoli quando si va sopra con il sacco a pelo. La parte poi che ho preferito è anche questo isolamento con Air Value 3.5. L'isolamento è garantito anche in questo caso da 160 grammi di Polar Loft messi all'interno per far sì che non sentiamo freddo. Questo Air Value cosa vuol dire? Che riusciamo a utilizzarlo, mountain equipment dice, fino a meno 15. Secondo me meno 15 è un po' esagerato. Anche qua, secondo me, la temperatura è proprio limite, limite, limite in cui riusciamo a utilizzarlo. Quella comfort io starei sui meno 7, meno 8, ecco. È comunque garantita un isolamento dai 160 grammi di Polar Loft che troviamo all'interno anche di questo modello, però a meno 15 è veramente una temperatura super estrema. Di questo modello overstat ho avuto modo di provare anche versione non synth, ovvero un matrassino con Air Value di 2, quindi diciamo prettamente estivo, vogliamo dirla così, che pesa solamente 500 grammi. Ha le stesse caratteristiche per quanto riguarda l'altezza, sempre di 7 cm, il gonfiaggio sempre allo stesso modo, tutta la parte anche di materiali è uguale, però diciamo che è la versione un pochino più light ed estiva. E questa qua veramente mi ha sorpreso per il suo rapporto peso-dimensioni. È veramente piccolo, leggero, e questo messo all'interno del nostro zaino davvero ce lo dimentichiamo lì. E questo messo insieme al Mountain Equipment Transalp, il sacco a pelo che abbiamo visto nella scorsa recensione, fa una combo veramente super per passare delle notti d'estate all'aperto. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi sacchi a pelo. Vi cito anche il modello non synth, quello con Air Value 2 di Overstat, che costa 120 euro ufficiale Mountain Equipment, online si trova un centinaio di euro. Ve lo consiglio sì, perché è veramente, veramente piccolo e soprattutto molto, molto leggero. Quindi anche lui è super consigliato, soprattutto con il modello Transalp che abbiamo visto nella scorsa recensione. Overstat 7.0 Synth, 140 euro, online si trova sui 120. Ve lo consiglio sì, soprattutto lui ha veramente un super prezzo. Ha un super prezzo perché comunque parliamo di un 3.5 di Air Value, dalle ottime dimensioni, quindi davvero anche lui è un super prodotto che mi è piaciuto tanto. Tra i tre forse lui è quello che vi consiglierei più di comprare. E poi infine il modello Aerostat, 190 euro ufficiale Mountain Equipment, online si trova qualcosina a meno. Lui va bene come matrassino proprio quattro stagioni. Se state cercando un modello con il quale fare sia estate che inverno, lui va veramente bene. Se invece non pensate ad andare d'inverno, io ve lo sconsiglio perché a quel punto diventa superfluo, per quello che andrete a fare. Però in generale, davvero, anche lui secondo me, per i 170 euro che lo si trova online, va più che bene. Detto ciò ragazzi, mia speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!